Comune in Sicilia le elezioni slittano all'autunno. Le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali in Sicilia devono essere rinviate all'autunno. Nella provincia di Siracusa si vota Florida e Augusta. La decisione è stata adottata dal governo musulmanici allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del coronavirus nell'isola. Il periodo individuato è tra l'11 ottobre e il 6 dicembre. La delibera della giunta che approva il disegno di legge proposto dall'assessore alle autonomie locali Bernadette Grasso è stata già pubblicata sul sito web della regione siciliana e inviata all'Ars per l'avvio del relativo iter parlamentare. Attualmente interessati dalla tornata elettorale sono 61 comuni i cui organi verranno prorogati tra i quali due capologhi di provincia, Agrigento ed Enna. Le elezioni programmate originalmente per il 24 maggio erano state già rinviate dal governo regionale al 14 giugno con eventuale ballottaggio il 28 giugno. Adesso, visto il permanente dell'attuale fase emergenziale, la proposta di un ulteriore spostamento sulla quale dovrà pronunciarsi l'aula. Grazie. Grazie. Grazie.